sulla scena surprise racconta la realizzazione di un sogno a 70 anni nel 2010 sono tornato a riattraversare l'atlantico con la mia barca vera il duale così come feci circa 40 anni fa nel 1978 col mio grande e indimenticabile amico e cognato ambrogio foga a bordo del surprise primo tra gli italiani ambrogio nel 1974 con il surprise realizzò il giro del mondo in solitario e controverso l'evento meritò i titoli di prima pagina di tutti i maggiori quotidiani italiani e milano gli ha reso omaggio esponendo il surprise nell'ottagono della galleria di corso vittorio e maglietti le emozioni vissute in quel viaggio mi hanno spinto ad affrontare di nuovo l'atlantico e da scrivere questo libro sulla scena del surprise nasce dal confronto tra le diverse emozioni di questi due viaggi racconta mai sopiti ricordi ed aneddoti del vissuto di ambrogio l'interno del surprise l'imbarcazione a vela con la quale ambrogio fogar ha fatto il giro del mondo il surprise è lungo 11 metri compara il diverso modo di navigare di oggi e di allora non esistevano degli strumenti che esistono oggi che ci aiutano molto che sono il gps che sono il satellitare insomma comunque tutti gli strumenti che ci aiutano a capire dove siamo sulla scena del surprise è l'espressione della ritrovata armonia con me stessa navigando a bordo di duale grazie a tutti grazie a tutti